Buongiorno Daedo, se siete programmatori JavaScript, TypeScript, insomma, del mondo JavaScript, quante volte scrivete durante uno sprint, npm, install, meno i, g magari, ecco, poi il nome dei pacchetti, per installare pacchetti CLI oppure pacchetti nei vostri progetti, insomma, quante volte? Un sacco di volte, immagino. E quante volte avete sbagliato, avete fatto dei typo scrivendo questa cosa? Beh, questi piccoli typo che potreste fare digitando in console un comando come questo potrebbero avere delle conseguenze indesiderate. Per esempio, e condivido con voi questa riflessione, oltre a condividere con chi sta guardando anche lo schermo, potreste imbattervi, per esempio, in un errore piuttosto frequente, cioè di dimenticarvi che il meno e il flag vanno attaccati. Magari mettete uno spazio di troppo tra il meno e un flag e quindi magari vi ritrovate a installare il pacchetto meno. Esiste un pacchetto che si chiama trattino o si chiama meno in npm ed è un pacchetto valido. Se voi guardate le statistiche di download trovate che è scaricato 49.000 volte a settimana e il pacchetto meno non fa nulla, cioè nel suo codice esporta null, di fatto non fa niente. Però pensate alla possibilità, quanto potrebbe essere pericoloso il fatto che qualcuno poi in futuro prenda controllo di questo pacchetto e invece faccia qualcosa di un pochino più cattivello. Questo pacchetto è stato pubblicato l'ultima volta quattro anni fa, quindi non è più aggiornato. Qualcuno potrebbe prendere il controllo di questo repo e pubblicare qualcosa di cattivello. E basta sbagliarsi a scrivere qualcosa in command line, per esempio scrivere npm install meno, e poi spazio e gli altri flag, a quel punto meno potrebbe essere installato, portando a conseguenze indesiderate. Ma non è mica finita qui perché esiste anche il pacchetto G, per esempio. Se anche qua voi sbagliate, scrivete meno, poi spazio G, ecco magari pensando che G sia il flag, in realtà G è il nome di un pacchetto. In questo caso G è il nome di un pacchetto abbastanza inutile, però anche in questo caso G potrebbe essere preso da qualcuno che invece ha degli intenti un pochino più malvagi. C'è stato pubblicato otto anni fa, è stato però scaricato ed è ancora scaricato 29.000 volte a settimana. E visto che la palese inutilità di questo pacchetto, non credo che ci siano 29.000 installazioni consapevoli. Più che altro, immagino che la totalità, la quasi totalità di queste installazioni siano appunto per errori di battitura. E termino con quello probabilmente più eclatante, che è il pacchetto i. Sapete che potete abbreviare npm install con npm i, cioè install diventa i. E se sbagliate anche qua a scrivere, magari scrivete npm install poi i, perché per qualche motivo vi sbagliate, installate il pacchetto i. Il pacchetto i, anche qua, è un pacchetto abbastanza inutile, però ha delle funzionalità sulle manipolazioni di stringhe. Perché al momento non sembra, adesso non ha, io non ho analizzato il codice naturalmente, quindi spero, immagino che non faccia nulla di cattivo, di problematico. È stato pubblicato tre anni fa per l'ultima volta, quindi non ci sono nuove release da allora e nessuno l'ha tirato mai giù, quindi credo che non sia al momento un rischio per la sicurezza, però anche qua qualcuno potrebbe impossessarsi di questo repo sfruttando i typo in command line ed ecco che diventerebbe un problema abbastanza serio. Sapete quante volte ha installato il pacchetto i ogni settimana dagli utenti di npm? 596.000 volte, quindi immaginate la portata che potrebbe avere l'impossessarsi di questo pacchetto da parte di qualcuno che invece è, come abbiamo visto esattamente per il caso di XZ ultimamente, se qualcuno riesce a infilarsi nei meandri di questo pacchetto, parlare con il maintainer o riuscire insomma a fare un takeover di questo repo, ecco ci troveremo in guai abbastanza serio, dovremmo riuscire a capirlo. Insomma, tutte queste cose sono dato per dire che la sicurezza della supply chain è una priorità e voilà, marchetta, ne parleremo questo giovedì sera alle 18.30 al Pug Bologna Programmers User Group che è un meetup che è fatto insomma in collaborazione con GRUSP, sapete è uno dei tanti Pug che ci sono in varie città italiane insomma che GRUSP sostiene e l'evento di questo giovedì che è il primo evento della rinascita di questo Pug parleremo proprio di software supply chain, si tiene a Bologna in presenza in via Ernero nella sede di Zanichelli, insomma se volete venire iscrivetevi alla link insomma che poi metterò anche nella descrizione dell'episodio, link meetup, insomma unitevi agli altri che ci sono già iscritti se riuscite a passare da Bologna, insomma ci vediamo e parliamo di supply chain security in questo evento che si chiama Pug Programmers User Group basta volevo fare solo questa intro marchetta però vi ho tolto abbastanza tempo il resto della puntata guarda però saranno cose interessanti perché parleremo di un po' di movimenti di mercato voglio vedere un po' cosa sta succedendo a livello proprio finanziario, a livello di mercato chi sta comprando, chi ci sono delle cose abbastanza eclatanti da vedere così negli ultimi mesi così ci mettiamo in pari sugli ultimi movimenti di mercato e poi vediamo anche delle cose frizzantine concesse dalle nuove regole dell'App Store in iOS vediamo che è successo qualcosa di carino e lo vediamo dopo questa siglona e iniziamo a analizzare le mosse di mercato dalla più grande acquisizione di sempre in casa Cisco Cisco ha comprato Splunk e ha pagato 28 miliardi di dollari 28 miliardi oltre naturalmente a dover ora gestire l'ingestione di 7.000 dipendenti che compongono appunto tutto il parco dipendenti di Splunk Splunk è un'azienda che si occupa di dati, di analytics insomma è un nome abbastanza importante nella panorama del cloud Cisco naturalmente la conoscete tutti quindi adesso insomma Cisco si ritrova con circa il 10% di dipendenti in più perché più o meno 7.000 persone hanno questo peso all'interno del totale di dipendenti di Cisco quindi naturalmente oltre al prezzo pagato che è notevole c'è anche tutta una questione di gestire questo numero importante di persone che entrano a far parte di Cisco quindi adesso il CEO di Cisco che è Chuck Robbins e Gary Steele che era il CEO di Splunk adesso è un Executive VP in Cisco e diventa General Manager di Splunk hanno parlato di un piano per integrare insomma per mergiare queste due aziende e hanno detto che Cisco si concentrerà nel costruire l'integrazione migliore possibile tra i prodotti di Cisco e di Splunk quindi parlano di nuove innovazioni per integrare le applicazioni poi appunto la security, network, multi cloud e tutti i loro utenti, i sorgenti di dati per andare ad affrontare proprio i rischi tecnici e di business insomma che ci sono in questo tipo di operazioni e inoltre parlano di un piano per continuare l'estensivo uso, supporto e contribuzione alle community open source come per esempio OpenTelemetry, EPPF e anche altre The Register che è il sito da cui sto prendendo questa news si chiede se questa acquisizione funzionerà e cita alcuni casi del passato in cui le cose non sono andate molto bene per esempio l'acquisizione di Veritas da parte di Simon Tech che insomma non funzionò molto bene infatti fu un flop totale ma anche l'acquisizione di Nokia da parte di Microsoft ve la ricorderete tutti insomma non andò esattamente come sperato ma anche cita l'acquisizione di Motorola da parte di Google che insomma fece più o meno la stessa fine quindi nel caso di acquisizioni di compagnie così grandi insomma la storia ha detto che non sempre sono andate esattamente come sperato però vediamo in questo caso nei prossimi mesi cosa succederà per questa mega acquisizione e non finisce qui ci sono infatti altre acquisizioni croccanti come quella di Canva che ha acquisito Affinity Affinity è una suite di prodotti per fare foto editing, video editing insomma sono dei software che competono con la suite di Adobe ed è proprio per questo che Canva li ha acquisiti il deal è un mix di cash e stock quindi insomma di soldi e azioni e è valutato varie centinaia di migliaia di sterline ha detto il co-founder e COO Cliff Obrecht di Canva a Bloomberg ed è la più grande acquisizione di sempre nella storia della startup australiana che vale circa 26 miliardi di dollari ci dice Yahoo News e punta proprio all'espansione totale soprattutto nel mercato europeo il team di Affinity era composto da 90 persone tutte basate in UK a Nottingham e la startup che possiede e produce Affinity si chiama Serif ecco tutto questo gruppo, questo team entrerà a far parte della forza lavoro di Canva Canva è stata fondata circa 10 anni fa è il competitor più importante di Adobe che naturalmente è leader di questo settore e Adobe che non sta attraversando un periodo felicissimo nonostante ha aggiunto delle feature di AI ai suoi prodotti però dopo la mancata acquisizione di Figma sapete che le autorità per la regolamentazione dell'antitrust europea hanno impedito l'acquisizione di Figma le azioni di Adobe sono scese del 15% quindi insomma un momento non particolarmente felice e ora si trova davvero a affrontare un competitor che cresce sempre di più infatti questa è la settima acquisizione di Canva negli ultimi anni in Europa e include per esempio la startup di Visual AI Kaleido.ai e anche i provider di immagini Pexel e Pixabay quindi insomma si sta espandendo soprattutto nel nostro continente ecco e diventa un serio problema per Adobe ho delle informazioni aggiuntive su questo deal Affinity intanto vediamo un attimo che cos'è è una suite che comprende Affinity Designer, Photo e Publisher e sono i diretti competitor di rispettivamente Illustrator, Photoshop e InDesign sono prodotti che funzionano su Mac e su Windows sono usati da circa 3 milioni di utenti in tutto il mondo che naturalmente è una frazione degli utenti di Adobe ma è una frazione che è molto fedele e poi la decisione di rendere le applicazioni di Affinity una one time purchase cioè compri una volta ed è tuo per sempre è insomma molto apprezzata da chi non invece è fan della politica di subscription di Adobe il co-founder di Canva, Cameron Adams, ha detto che le applicazioni di Affinity rimarranno separate dalla piattaforma di Canva ma che ci potrebbero essere alcune integrazioni insomma nei prossimi tempi e si conclude questo articolo che trovate su The Verge se siete interessati ad approfondire pensando quanto è attrattiva la UI e la semplicità d'uso delle applicazioni di Canva ecco questo potrebbe attirare sempre più creativi e quindi costituire una minaccia vera per il monopolio di Adobe volevo completare questa news con un altro articolo che ho trovato sempre su The Verge che parla invece del modello subscription di Adobe versus il modello one time purchase invece di Affinity e infatti c'erano stati alcuni dubbi degli utenti di Affinity che il modello potesse essere cambiato in favore appunto degli abbonamenti c'è stata una FAQ pubblicata sul sito di Affinity che ha parlato del modello one time purchase che in questo momento, quindi cito testualmente non sarebbe cambiato e gli utenti sono preoccupati di questa dicitura di questa formula in questo momento però in realtà c'è stata poi una chiarificazione successiva dove Affinity ha parlato di subscription che potrebbero essere affiancate al modello di acquisto di licenza perpetua ma soltanto per chi vuole passare al modello subscription per gli altri invece la licenza perpetua rimarrà per sempre quindi questo era giusto un chiarimento per dare a chi è già utente di queste applicazioni l'altro dubbio degli utenti riguardava le feature di AI che non sono mai state incluse nei prodotti Affinity mentre invece ci sono nella suite di Canva ci sono un po' di strumenti di AI generativa al momento non sappiamo se queste verranno integrate in Affinity che ha sempre detto di non voler sviluppare nessuna feature di AI però naturalmente bisogna vedere se adesso con l'acquisizione di Canva qualcosa potrebbe cambiare vi devo dar conto di altre acquisizioni per esempio quella di Yahoo che ha acquisito Artifact se vi ricordate vi ho parlato di Artifact qualche tempo fa era un'app che anch'io mi ero scaricato avevo provato era un'app che genera delle news che pensa siano adatte a te in base agli algoritmi di AI generativa e in base quindi alle news che leggi più spesso a quanto ci rimani, le tue preferenze eccetera eccetera e anche un'app che aveva, parlo al passato perché adesso è stata abbandonata aveva un'esperienza ad uso, un'interfaccia abbastanza piacevole devo dire però l'ho abbandonata perché devo dire che scegliere manualmente che cosa leggere è comunque meglio che avere qualcuno che suggerisce le notizie che potrebbero interessarti anche perché non è detto che leggere una notizia poi comporti il fatto che io sia interessato a tutti gli approfondimenti ulteriori su quello specifico argomento cosa che invece naturalmente Artifact dà per scontato tutto questo per dirvi che Artifact in gennaio era stato spento i suoi creatori che erano anche i co-founder di Instagram avevano parlato proprio del fatto che non era riuscito a coinvolgere una grande base di utenti quindi non aveva più senso continuare con questo business ebbene i sessi co-fondatori hanno poi detto di aver ricevuto molte telefonate da varie aziende interessate all'acquisizione di Artifact quella più concreta è sembrata essere Yahoo e infatti ha finalizzato questa acquisizione per una cifra che non è stata resa nota Yahoo comprerà Artifact come tecnologia cioè non resusciterà l'app di Artifact ma integrerà la tecnologia alla base di Artifact nei prodotti di Yahoo News che ha naturalmente una larghissima base di utenti i dipendenti di Artifact non saranno assorbiti da Yahoo quindi troveranno probabilmente degli altri impieghi e quindi insomma potremmo vedere prossimamente nei prodotti di Yahoo News qualcosa che richiama l'interfaccia di Artifact e probabilmente le feature di suggerimento di articoli interessanti che poi abbiamo trovato in questa app sono alle due ultime acquisizioni spero di non avervi messo definitivamente KO già ora comunque la prima è Automatic che acquisisce Beeper ora Automatic sono quelli di Wordpress Wordpress.com quindi un gigante delle web application e anche un attore importantissimo nel panorama open source naturalmente Wordpress gestisce il 120% del traffico web non so quali sono le ultime statistiche ma naturalmente con WooCommerce è anche un prodotto estremamente importante nel mercato degli e-commerce e insomma Automatic ha davvero un impero nei siti web Beeper invece è un'app molto più piccolina però è una tecnologia interessante perché è un aggregatore di chat quindi è un multi-chat cioè un'app con cui voi potete utilizzare vari servizi di messaggistica integrando naturalmente anche i protocolli di criptazione insomma mantenendo la sicurezza delle chat ma integrati in un'app che quindi ne rende l'esperienza e l'uso più semplice che tra l'altro ricordo che era un trend di diversi anni fa quello di creare le app di messaggistica che univano vari protocolli, varie cose in un'unica app poi era un po' scomparsa questa roba pare essere ritornata e pare che Beeper abbia una tecnologia abbastanza interessante che funziona tant'è che poi Automatic adesso se l'è comprata quindi vuole aggiungere la parte di messaggistica quindi la parte di comunicazione al suo già impero diciamo delle comunicazioni web che abbiamo detto quindi volevo dirvi anche questa notizia quindi Automatic acquisisce Beeper tra l'altro aveva già acquisito un'altra startup che si chiamava Texts mi pare sempre sulla chat, sulla messaggistica quindi insomma è un settore di mercato a cui Automatic è molto interessata ora però passiamo all'ultima notizia che ci riguarda molto più da vicino perché parliamo di mercato italiano parliamo quantomeno di un'azienda italiana che è Bending Spoons un'azienda che ormai conoscete tutti molto bene ebbene Bending Spoons ha comprato ha acquisito StreamYard StreamYard è un nome che chi fa streaming su YouTube su Twitch insomma in generale su web conosce molto bene è una delle app che si usano di più una delle app web based che si usano di più per fare live insomma sui servizi di streaming insomma Bending Spoons ha annunciato il 10 aprile di aver raggiunto un accordo per acquisire StreamYard Top Corp che è nota anche come Hopin che è l'azienda che appunto gestisce StreamYard, Streamable e Super Wave che ha a pare 60 milioni di video registrati nel mondo una cosa così StreamYard è come abbiamo detto live streaming quindi serve per il live streaming e registrazione non solo live ma anche registrazione Streamable invece consente di caricare e distribuire video online quindi su più piattaforme contemporaneamente Super Wave invece serve per gestire le community Bending Spoons è nota ai più in Italia per aver realizzato l'app Immuni e oggi ha raggiunto oltre mezzo miliardo di utenti in tutto il mondo attraverso le varie acquisizioni che poi ha fatto quindi una suite di prodotti abbastanza larga tra cui Evernote, Meetup, Remini, Splice e si parla anche di una possibile acquisizione di Vimeo quindi insomma per allargarsi ulteriormente poi la politica di Bending Spoons in realtà è stata quella di acquisire e poi spolpare un pochino le società e i prodotti acquisiti mantenendone la funzionalità ma magari mandando a casa le persone però queste sono decisioni del business che naturalmente non sto troppo a commentare intanto però sappiate che Bending Spoons cresce ulteriormente con l'acquisizione di StreamYard Volevo dare anche una seconda notizia che staccasse un po' da acquisizioni, mercato, sodio eccetera e quindi voglio parlare di una cosa successa nel mondo Apple App Store sapete che adesso Apple ha delle nuove politiche su App Store che consentono a una più vasta tipologia di applicazioni di essere presenti installabili e scaricabili tra queste nuove applicazioni ci sono gli emulatori e infatti come ci dice questo articolo di The Verge è arrivato o meglio era arrivato un primo emulatore su App Store che era IGBA quindi un emulatore per Game Boy Advance tra l'altro questo emulatore è stato sviluppato da un utente italiano da uno sviluppatore italiano che si chiama Mattia Laspina uno sviluppatore iOS il problemino di questo emulatore è che in realtà non è totalmente il lavoro di Mattia Laspina vuole dire che in realtà è una copia totale di un altro emulatore un emulatore che si chiama GBA4iOS che è un emulatore open source che era stato sviluppato già una decina di anni fa e distribuito sotto licenza GNU GPL versione 2 il problema quindi di IGBA è che include totalmente codice di questo altro emulatore creato dallo sviluppatore Riley Testat senza citarne la licenza senza citarne le attribuzioni insomma violando i termini d'uso un utente di Mastodon si è accorto di questa roba qua insomma e ha fatto presente che le app Review Guidelines di Apple citano esplicitamente che la propria app non deve includere contenuti creati da altri o per cui non abbiamo o non avete la licenza d'uso e di distribuzione cosa che sembra esattamente essere il caso del lavoro di Mattia Laspila che è stato insomma preso dal lavoro fatto precedentemente da Testat e tra l'altro quest'ultimo ha detto di non essere tanto incacchiato con Laspina ma con Apple perché mentre sono in trattative e in sviluppo per creare Alt Store che è un App Store alternativo sapete che si possono adesso rilasciare App Store alternativi su iOS ecco che gli hanno approvato un'app che va a esattamente e replicare la totalità delle funzioni di quella che dovrebbe essere l'applicazione di punta di Alt Store e quindi insomma non sono molto contenti del trattamento che Apple ha riservato a questa App The Verge ha contattato Mattia Laspina che non ha esplicitamente confermato di aver utilizzato il codice di quest'altra App Open Source ma ha detto che insomma non si aspettava tutto questo clamore ed è insomma dispiaciuto dell'accaduto dopodiché ha detto di aver contattato Testat via email quindi apparentemente insomma di essersi chiarito adesso comunque IGBA non è più presente nell'App Store e tra l'altro un altro problemino con IGBA è che nella pagina dell'App Store era specificato che questo poteva collezionare dati quindi poteva raccogliere dati come dati di location e altri identificatori che potevano essere utilizzati per risalire all'utilizzatore dell'App che è un po' strano no per un emulatore ma insomma c'è un altro emulatore ci informa infine questo articolo che è un emulatore di Commodore 64 che si chiama emu64XL ma dice l'autore dell'articolo dopo averlo installato ha visto che c'erano un sacco di richieste di permessi, di toggle che sembravano in realtà essere dei tracker quindi non ha provato neanche a scaricare delle ROM e insomma a testare il funzionamento dell'emulatore l'ha cancellato immediatamente insomma classificando un po' questa App come un tentativo di scam questo cosa ci dice? che forse Apple sta un po' rilassando i controlli sulle App ecco non sono più tanto puntuali come erano prima questo potrebbe essere in parte dovuto alle regole del Digital Markets Act e anche a una causa adesso in corso con il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti che potrebbero richiedere a Apple appunto più concessione nell'uso libero dei suoi App Store da parte degli sviluppatori e dobbiamo dire che avere a disposizione gli emulatori e tante altre tipologie di app liberamente sugli App Store è una vittoria spiace però che appunto le prime App in cui ci si è imbattuti in questo campo siano insomma dei tentativi un po' maldestri di insomma sfruttare gli utenti eccoci in conclusione vi lascio due link il primo è un reposito di GitHub che si chiama RedK e torniamo alle news su Redis RedK non è altro che una reimplementazione di Redis però utilizzando SQLite rimane compatibile con le Redis API però insomma sotto il cofano ha SQLite quindi se vi interessa la questione vi lascio il link a RedK così potete approfondire e l'altro è una lettura simpatica che potete fare nella pausa caffè che si intitola lancia il server più lontano e vinci gli admin più prestanti si sfidano a lavorare con l'hardware insomma questo è un articolo che ho trovato su Red Hot Cyber un articolo in italiano che parla della Cloud Fest 2024 che è un festival IT che si è svolto nel parco più grande della Germania il 19 marzo e qui insomma i più forti amministratori di sistema di tutto il mondo ci sono sfidati a lavorare con i propri server però non configurandoli o scrivendo codice ma lanciandoli tecnicamente questa gara era una gara a lanciare il più lontano possibile dei server quindi ecco questo mi fermo qui basta è diventata anche troppo lunga questa puntata spero di fare un po' di tagli per rendere digeribile domani non c'è buongiornissimo perché sarò a Milano in studio pronto per registrare continuous delivery che andrà in onda live domani pomeriggio alle 17 parleremo di Fusion Cash con Giotti Donetti parleremo di Open Source insomma sarà una puntata molto frizzantina vi consiglio di seguirla ripeto domani alle 17 sui canali di continuous delivery e basta poi noi ci rivedremo invece più avanti vi ricordo anche l'appuntamento con il Meetup alle 18.30 a Bologna insomma lascio il link meetup.com per tutti i dettagli basta ho finito qua ci vediamo alla prossima grazie ciao grazie a tutti